Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video al Tempigantala. Oggi facciamo l'omelette estiva. Gli ingredienti per un omelette sono un uovo, un goccio d'olio, un pizzico di sale, due cucchiai di parmigiano e due cucchiai di zucchine trombette tagliate a pezzettini. Invece per la falsitura mettiamo mozzarella di bufala e una fetta di prosciutto crudo. Dompiamo l'uovo e iniziamo a sbattire. Adesso che abbiamo sbattuto l'uovo e abbiamo risosciuto il rosso, aggiungiamo due cucchiai di zucchine. e aggiungiamo iniziamo e aggiungiamo e aggiungiamo aggiungiamo un filo d'olio e un pizzico di sale usiamo un po la nostra padella tagliamo un fettino la nostra mozzarella a questo punto della cottura andiamo a mettere il nostro contenuto appena messo il condimento lo giriamo e lo togliamo subito dalla padella questo è il risultato finale se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ricordatevi di iscrivervi al canale ciao